E' un ottimo progetto, tra l'altro dobbiamo anche dire che ultimamente ci sono state delle novità anche nel settore della ricerca energetica, nella ricerca degli idrocarburi del nostro territorio e credo che alcune cose siano interessanti come quello che sta accadendo a Monte Rosso Almo dove sarà possibile fra un po' avere dei risultati proprio che relativi agli impianti del gas. Detto questo parliamo invece di spazzatura o metodi rifiuti abbandonati lungo le strade. E' un'attività del Libero Consorzio di Ragusa e ha uno dei compiti principali per il Libero Consorzio e proprio l'ambiente e quindi è stato dato compito all'ufficio viabilità con il supporto delle forze dell'ordine, sono state indicate oltre 100 aree di competenza dell'ente provinciale che devono essere decontaminate. Attenzione, le immagini sono immagini di repertorio, non sappiamo se questo è un territorio della provincia o meno, questo non lo sappiamo. Allora, cosa dice la dottoressa Valenti? In pratica ci sono le fototrappole, cioè telecamere che funzionano anche di notte e ti fanno vedere chi commette il reato e pensate che dal primo gennaio a oggi in sei mesi già ci sono state 70 notizie di reato per coloro che vanno a buttare la spazzatura lungo i bordi delle strade o fanno delle discariche. Dice il commissario l'incure dell'uomo e la difficoltà di adattarsi ai sistemi di differenziazione del rifiuto porta gesti insani. Quest'azione di tutela non è esclusiva competenza del Libero Consorzio ma è un compito di tutti i cittadini. Su questo non ci sono dubbi, il fatto è che spesso capita che non ci sono le postazioni idonee per buttare la spazzatura, molti sono degli invisibili, cioè chi butta la spazzatura probabilmente non ha neanche un contratto con il comune, non paga le tasse, quindi non ha i mastelli, non è registrato e compagnia bella. La unica cosa che può fare è accumulare tutto, poi prendere un bel sacchetto, pigliare la strada e andarla a buttare. Attenzione perché ci sono multe salatissime, multe salatissime e non è bello che queste cose accadano. Naturalmente ci sono anche molte problematiche, molti dicono che è un problema che deriva da tutti coloro che appunto sono invisibili, non sono residenti e compagnia bella, questo è vero. Però il tentativo che si sta facendo ultimamente è proprio quello della integrazione. Io sono stato sabato ad un incontro che si è svolto al centro servizi culturali, quello del vecchio macello, quello che è sempre stato il centro servizi culturali, quello di Emanuele Schembari, perché c'era una manifestazione, guardate, che ha avuto vari risvolti, uno certamente folcloristico con le musiche, uno molto elegante con questi abiti molto molto belli che sono stati realizzati da una stilista di cui ora parleremo e però aveva anche un concetto filosofico in questa storia, un modo di vedere la vita che porta alla felicità. Io so che non è facile, attenzione, a animare un po' tutto questo è Fatia che molti conoscono perché ormai ha tanti anni, ecco la vedete, che tantissimi anni che sta a Ragusa, è integrata assolutamente, lavora per il Tribunale e compagnia bella, quindi è un personaggio a Ragusa molto conosciuto e poi ha anche fatto, come posso dire, un attimo di enogastronomia, infatti c'è stata poi la serata del couscous, io non c'ero ma so che era molto molto buono. Allora vediamo questo servizio che è stato realizzato, sono quattro minuti in occasione di questo appuntamento che parlava di felicità. Vediamo.